La città è davvero piegata nel dolore, è una tale tragedia che non ha parole. Siamo vicini alla famiglia, anche tolto ogni spettacolo dall'apertura delle mura. Abbiamo dato il segno che la città è nel dolore. Hai avuto occasione di parlare con i coniugi? Ci siamo abbracciati. È un ragazzo splendido, generoso. Non ci sono parole, perché è l'ultima persona alla quale si può pensare che accada una tragedia del genere, eppure è accaduta a lui, è accaduta ad altri. Siamo vicini. Ha detto qualcosa?